tre cose che non sai su Gengis Khan. A scuola ci raccontano che queste orde mongole erano dei barbari, delle specie di trogloditi, invece no, erano sviluppatissimi. Loro avevano le armi da fuoco e sono stati i primi a utilizzarle in maniera proprio a tappeto perché i cinesi avevano inventato le bombe, i razzi che poi esplodevano, i razzi incendiari eccetera, ma li usavano poco. Mentre invece Gengis Khan capisce che l'esplosivo, la polvere nera è la arma definitiva e questo distrugge tutti gli eserciti, questa loro superiorità militare pazzesca. C'è una cronaca di un giornalista diciamo arabo del tempo che descrive una battaglia in cui un piccolo gruppo, 5.000 mongoli, attaccano 50.000 popoli persiani diciamo di quell'area medio orientali e questi non capiscono quello che succede. La descrizione ci furono lampi, fulmini, i nostri furono uccisi dai fulmini, la terra tremava, cioè vedono le esplosioni e i razzi che usano i mongoli e non capiscono neanche cosa sono, che fenomeno è. È chiaro che spazzano via tutti gli eserciti medievali e arrivano fino a Budapest, cioè in Europa. E l'altra cosa che non viene mai detta, è che, o vedetta però insomma non sempre detta, è che i mongoli erano organizzatissimi, avevano un sistema di andare in battaglia con ad esempio un corredo che ogni guerriero doveva avere che era descritto nei minimi particolari e se nelle ispezioni c'era uno che aveva un paio di calzini di meno, veniva ucciso tutto il gruppo. Avevano una disciplina nazista ovviamente, non è che sto esaltando, però non erano dei selvaggi, erano dei tecnocrati pazzi con un livello di violenza, avevano la contabilità dei nemici uccisi per poi avere dei premi, ma dovevano spedire a casa in salamoia l'orecchio destro di tutti quelli che avevano ammazzato, perché bisognava fare il conteggio, non è che si poteva fare a caso quanti ne ha ammazzati, 10.000, no no, ecco qui le orecchie come prova che li ho ammazzati, hai capito? Cioè era una situazione incredibile e l'altro aspetto che siccome avevano un loro modo di pensare da un certo punto di vista bloccato su certe tradizioni, su certi principi, per loro era immorale prendere delle tasse più di un certo livello, a differenza di tutti gli europei, gli indiani, i medio orientali, eccetera, e i cinesi che saccagnavano la gente di tasse, no, per cui dove arrivavano i mongoli? In realtà le città che non si arrendevano, venivano sterminati tutti, quelli che si arrendevano, il popolo c'aveva anche un vantaggio, perché? Perché gli abbassavano le tasse, è una storia incredibile questa dei mongoli e ancora se andate in giro in rete, ma anche su parecchi libri, trovate la balla del fatto che la polvere da sparo è stata inventata da un monaco tedesco di nome Schwarz, che vuol dire il nero, ma non è vero niente, la polvere da sparo in Europa l'hanno portata i mongoli e i mongoli sono stati i primi anche a fondere le armi da fuoco. Il sud della Cina loro lo conquistano quando anche con l'aiuto di fabbri medio orientali, che erano avanzatissimi sulle tecniche di fusione dell'acciaio, riescono a fare dei cannoni e allora conquistano il sud della Cina perché lì la polvere da sparo, i razzi e le bombe non gli facevano tanta paura perché li conoscevano bene e li usavano anche loro, a differenza al nord della Cina che li conoscevano ma li usavano poco. Storie che non tutti conoscono.